Una casa privata a Cammarata, trasformata in un centro di consumo e spaccio di marijuana. Blitz dei carabinieri, un arresto, sequestrata droga e attrezzi del mestiere. Lui è Pasquale Reina, 21 anni di Cammarata. I carabinieri della compagnia di Cammarata, agli ordini di lui, il capitano Alessandro Trovato, lo hanno arrestato. Adesso Reina in carcere, risponderà di produzione e detenzione di marijuana a fini di spaccio. Poi ai giudici spiegherà come e perché ha trasformato casa sua in un locale per il consumo di sostanza stupefacente. Un bunker della droga, una saratoga della canapa indiana, una guantanamo del fumo, l'alcatraz del trip. Sì, la casa di Pasquale Reina come un harem dello sballo. Tanti cittadini hanno segnalato un movimento perenne di ragazzi. Dentro e fuori l'abitazione di Reina, chi entra e chi esce. Lui, Reina, fuori la porta, ha montato anche una telecamera per la videosorveglianza. Ecco l'ingresso. Ecco la fotocamera. Ed ecco il particolare del sistema, alquanto sofisticato. Ancora una foto dello strumento di controllo. Collegato ad un televisore, in cucina, come monitor. L'irruzione, le blitz. Ecco ciò che i carabinieri hanno scoperto e sequestrato. Una chitarra da figli dei fiori, della marijuana. Poi ecco altre fotografie. Sono dei canumet, delle pipe caratteristiche di ogni tipo e genere. Che servono e forse saranno servite per fumare la droga. Eccola qui. 150 grammi di marijuana, già pronta per il consumo. 100 grammi di sostanza da taglio. 19 bicchieri con piantine appena germogliate. Poi foto di gruppo. I carabinieri, la droga, i calumet. Ed anche un manuale per la produzione della sostanza stupefacente. In basso a destra. Incredibile. Davvero stupefacente. Quanta roba in un colpo solo.